Un aiuto concreto alle famiglie è un servizio inserito in un progetto educativo. Grazie all'associazione scuole paritarie di Lecco, oltre 400 bambini della città e non hanno potuto frequentare a luglio l'asilo estivo. Associazione scuole materne paritarie significa anche asilo in città durante il mese di luglio. Proprio grazie al fatto che le nostre scuole sono riunite in associazione abbiamo potuto garantire questo servizio all'interno di 5 delle nostre 15 scuole, accogliendo 407 bambini, quindi con numeri decisamente più elevati rispetto a quelli che avevamo lo scorso anno, suddivisi nelle 5 scuole, con una copertura oraria che va dalle 7.30 della mattina alle 17.45 del pomeriggio. Abbiamo accolto anche parecchi bambini disabili, perché la nostra attenzione ai disabili durante il percorso ordinario scolastico è grande e quindi non poteva mancare anche durante questo tipo di esperienza che è diversa perché è estiva, è gestita in un'altra maniera, ma l'attenzione ai disabili è sempre la medesima. Rispetto a questi 407 bambini iscritti ci tengo a precisare che 60 di questi bambini provengono dalle scuole materne statali. Quindi noi questo servizio come associazione lo eroghiamo non solo ai nostri utenti, ma anche alle famiglie che hanno scelto le scuole statali. La soddisfazione sì è grande, lo dimostra il fatto che l'anno scorso avevamo 350 iscritti, quest'anno ne abbiamo 407. Quindi evidentemente le famiglie apprezzano sempre di più questo servizio e ci affidano i loro bambini.